Ben trovati a questa nuova puntata di Talk Sicilia, oggi facciamo veramente servizio pubblico perché daremo delle informazioni utili ai consumatori, consumatori che si recano nei negozi a comprare frutta e verdura che in questo periodo costa davvero tanto ma vedremo anche altre cose e che trovano sicuramente delle sorprese, magari inconsapevolmente non sanno davvero che cosa comprano, adesso vedremo e ce lo faremo spiegare da chi quella scorsa settimana è entrato al mercato ortofrutticolo e ha fatto un controllo, un controllo inatteso e quindi ha avuto piena contezza di quello che si vende qui non tanto distante da Blog Sicilia, la sede di Blog Sicilia perché appunto il mercato si trova a qualche centinaia di metri e allora il nostro ospite, ve lo presento subito, è il comandante Luca Ferlito, il comandante del Noras, nucleo operativo del corpo forestale siciliano, ha i suoi uomini, le sue donne con cui appunto fa una serie di servizi e ci facciamo spiegare subito immediatamente cosa ha trovato al mercato ortofrutticolo di Palermo. L'accesso straordinario, perché si parla di un accesso, di un controllo straordinario, lo abbiamo svolto venerdì 17 marzo, ovviamente siamo entrati alle prime ore del mattino, credo intorno alle 3 e 20, ci siamo divisi in 10 squadre da 3, più alcune squadre erano fuori in modo che controllavano tutti i prodotti sia in entrata, eventualmente poi in uscita e quindi controllavano la documentazione commerciale e le 10 squadre si sono focalizzate nel verificare all'interno di ogni box quale tipologia di merce era detenuta per la vendita, come era arrivata la merce, cioè con quale documentazione commerciale e eventualmente se parte di questa merce era stata venduta, come era stata venduta, con quale documentazione commerciale. Diamo subito una notizia sciocca ai nostri telespettatori, allora la Sicilia terra da grumi al mercato di Malermo abbiamo verificato che gli agrumi erano egiziani, provenienti dalla Turchia, dalla Spagna, ma non c'erano agrumi siciliani o solo piccolissime quantità e percentuali rispetto alla massa. È davvero una cosa incredibile, devo dire, capisco la globalizzazione. In un box abbiamo verificato che arrivavano circa 25 mila chili di agrumi ogni settimana, agrumi dall'estero, addirittura paesi extra-we. Quindi se al mercato arrivano questi prodotti, in tutti i frutti vendoli palermitani sicuramente non c'è un arancio. Io voglio ricordare agli ascoltatori che c'è stato un bellissimo servizio su striscia la notizia non più di un mese fa, che parlava proprio delle etichette dei frutti vendoli, o meglio, come i frutti vendoli non rispettano i dettami del regolamento UE 543 del 2011, perché su ogni articolo di ortofrutta ci deve essere il suo cartellino, dove deve essere riportata innanzitutto il paese di origine, dove è stato prodotto. E questo quindi l'origine, quindi la provvedienza, è per alcuni prodotti calibro e categoria. Per esempio per gli agrumi sicuramente ci va il calibro e la categoria, ecco per essere cari. Ma l'origine è fondamentale su ogni cartellino. Ma a Palermo non ce n'è. Dico, so che voi fate controlli, adesso ne parliamo pure, fate anche sanzioni, perché se non vengono rispettate queste norme, ma dico, io andando in giro per Palermo di questi cartellini così dettagliati non li ho mai trovati. E dimenticavo che ci deve essere anche il prezzo sul cartellino. Certo, quello fondamentale. Quindi ci deve essere sicuramente l'origine, il paese dove è stato prodotto l'articolo, poi ci deve essere il calibro, la categoria, se è necessario, se la legge lo prevede, e neanche il prezzo, il consumatore, chi va ad acquistare deve sapere, deve conoscere qual è il prezzo e quindi può fare una scelta consapevole. La scelta consapevole deve essere soprattutto anche sull'origine del prodotto. Io ricordo a tutti che qua, proprio a Palermo, arrivano alcune settimane due navi, alcune settimane tre navi provenienti dalla Tunisia che portano inevitabilmente, perché è legittimo che la Tunisia esporti i propri prodotti agroalimentari, ma è altrettanto legittimo che il consumatore sia consapevole di ciò che acquista e di ciò che porta in tavola. Alla pena di sciaculli, arance, non ce ne sono. Allora, il problema di fondo qual è? Che è la cosa veramente importante che bisogna tenere a mente. E possono arrivare le arance dall'Egitto, dalla Turchia, dalla Spagna, per carità, nessuno. È tutto legittimo, ma poi queste arance devono essere rivendute dal commerciante all'ingrosso, devono essere rivendute al commerciante al dettaglio, con l'origine, con la provenienza. E il commerciante al dettaglio, ecco che entra il dettame del regolamento UE 540 del 2011, ha l'obbligo di riportare in un cartellino per ogni prodotto, origine, il calibro e categoria, se del caso, e anche il prezzo. Voi andate in giro, se il fruttivendolo non ha questi cartellini, che cosa rischia? Rischia una sanzione, una sanzione amministrativa, ma non solo il fruttivendolo al dettaglio, il negoziante al dettaglio, anche chi, diciamo, se fermiamo, perché i controlli su strada ne facciamo, ne facciamo tanti, se la merce viaggia senza l'origine è prevista proprio la sanzione specifica di 1.100 euro. So che di questi controlli ne avete fatti, dico, di questi controlli. Sì, di questi controlli ne facciamo tantissimi e soprattutto proprio al mercato di Palermo, ma in generale nei mercati che andiamo a controllare. Sì, a dicembre siete stati a Caltanissetta, anche lì avete... Questi sono comunque sempre controlli straordinari, cioè entriamo in un numero ongro, quindi entriamo 20-30 persone in modo da controllare quasi tutti i box di vendita all'ingrosso. Quali altre anomalie avete riscontrato a Palermo? Ho visto che i colleghi hanno sanzionato alcuni commissionari per la mancanza dell'origine dei documenti commerciali, ma poi sono stati quasi tutti verbali, sanzioni amministrative per mancanza di tracciabilità, quindi non hanno dimostrato la tracciabilità del prodotto. Sono arrivati là senza documenti o con documenti non in regola. E quindi questa marcia non può essere venduta, basta questa... Alcuni li abbiamo, allora quando sono quantitativi piccoli non procediamo al sequestro, ma per esempio sugli agrumi abbiamo proceduto al sequestro perché si tratta di oltre 1000 kg di agrumi che non era dimostrata la provenienza, quindi non c'era assolutamente il sistema di tracciabilità dei prodotti. Quindi non si sta parlando di un problema di qualità, si sta parlando semplicemente di un problema di tracciabilità. Questo è un aspetto che riguarda la tracciabilità. Esatto, quindi sulla qualità non... Noi entriamo anche nel merito della qualità, sempre con il regolamento UE 543. Gli agrumi, i prodotti per essere venduti devono avere degli standard qualitativi, devono rispondere a degli standard qualitativi, per esempio la merce ammuffita non può essere... Faccio un esempio banale, la merce ammuffita, ma anche in alcuni punti vendita della grande distribuzione organizzata abbiamo riscontrato la presenza all'interno dei banconi di vendita, di esposizione all'ortofrutta, abbiamo riscontrato della merce che per noi non rispondeva agli standard qualitativi dettati alla legge e quindi abbiamo proceduto al sequestro e anche alla sanzione amministrativa. A parte appunto la tracciabilità, quello che avete trovato nel mercato di Palermo, voi vi occupate anche di tantissime altre cose come Noras, come Nucleo. Non ultimo abbiamo visto anche delle indagini che avete fatto nel Catanese per rintracciare appunto due persone che avevano commesso un reato vero e proprio, quindi c'erano delle indagini, delle ricerche... Questo è stato un caso che ha avuto una vasta eco sugli organi di stampa, c'era un gruppo di motociclisti che abusivamente con motociclette fuoristrada transitavano nelle zone più tutelate del Parco dell'Etna, hanno incontrato dei ciclisti, insomma c'è stato un battibecco e i motociclisti hanno aggredito i ciclisti e quindi noi, fatte le indagini, comunica e segnalato tutto all'autorità giudiziaria, sotto... Si parte sempre dalla tutela dell'ambiente... Partiamo sempre dalla tutela dell'ambiente, dalla tutela dell'ambiente, dalla tutela del consumatore, dalla tutela dei prodotti della regione. Bene, abbiamo parlato di questa situazione legata al mercato, ma anche i caseifici sono al centro della vostra attività? Guardi, abbiamo sequestrato insieme ai veterinari dell'ASP di Catania, abbiamo sequestrato ai primi di febbraio un caseificio assolutamente, totalmente sconosciuto e abusivo sotto tutti i punti di vista. Quindi abbiamo proceduto senza nessun indugio al sequestro di oltre 1500 kg di formaggi, ma c'era anche carne congelata, c'erano 300 litri di olio, c'erano 100 litri di vino, 100 litri di acento. Quindi un'attività completamente sconosciuta e sensata. Era un negozio, era una rivendita di prodotti agroalimentari assolutamente abusiva sotto tutti i profili. E quindi non abbiamo potuto fare altro che sequestrare tutto e segnalare tutto all'autorità giudiziaria e poi elevare le sanzioni amministrative previste per la tracciabilità e per tutta una serie di altri... Arrivate a questi negozi, a queste attività durante il corso dei controlli o ricevete segnalazioni, ricevete input dai... Guardi, io devo dire che ci arrivano delle segnalazioni, o a noi o all'ASP arrivano diverse segnalazioni, perché la gente è stanca di acquistare prodotti di scarsa qualità, perché poi erano prodotti di bassa qualità, anche se a prezzi, diciamo, inferiori a quelli di mercato, ma comunque dove non c'è nessuna certezza della salubrità del prodotto, sotto gli aspetti anche igienico-sanitari, e quindi la gente vede e comincia a segnalare fortunatamente. Sì, a parte appunto la salute al primo posto, tra l'altro poi sappiamo bene che c'è una mente esponenziale di tumori, c'è una mente esponenziale di... Guardi, io le dico che abbiamo avuto una segnalazione che è arrivata al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria di alcune persone di origine biancavillesi, che è un paese in provincia di Catania, che erano state, abitano credo a Torino, erano state in vacanza a Biancavilla, erano andate al mercato locale che si svolge una volta alla settimana, e avevano acquistato della ricotta, e tornati poi a Torino hanno preso tutti la brucellosi, e avevano mangiato solo quella ricotta. Con quella segnalazione fatta dall'usle di Torino all'ASP di Catania, poi siamo intervenuti con i veterinari e abbiamo sequestrato a quattro rivenditori di prodotti caseari, abbiamo sequestrato oltre 600 kg di formaggi, ricotte, a Biancavilla, a Biancavilla, in quel mercatino. Erano assolutamente privi di tracciabilità. Sì, perché la brucellosi è un problema noterico. Purtroppo il latte dovrebbe essere distrutto e invece viene pastorizzato. E allora non si sapeva da dove venivano quei formaggi, non si sapeva dove era venuta la caseificazione, non si conosceva l'origine del latte, e quindi in quel caso abbiamo sequestrato tutto e distrutto tutto. Voglio ricordare che negli ultimi, nel 2001 e nel 2002, in provincia di Siracusa, perché noi la nostra competenza è a livello regionale, abbiamo sequestrato due allevamenti di ovi caprini che erano assolutamente sconosciuti all'anagrafe e vendevano latte. Quindi è probabile che in questi allenamenti ci siano animali affetti da brucellosi e quindi pensate che questa gente che era sconosciuta all'anagrafe e quindi gli animali non erano controllati e verosimilmente alcuni affetti da brucellosi poi rivendevano latte a qualche caseificio compiacente che magari lo prendeva a sottocosto e poi procedeva alla crisi. Senza tracciabilità, senza sottocosto. Assolutamente, senza tracciabilità. Quindi comprendiamo che non è la tracciabilità, tutta questa cosa non si fa, non è un'azione dettata dall'Europa solo per danneggiare i produttori, una cosa assolutamente per tutelare i consumatori. Assolutamente, per tutelare i consumatori e per tutelare i produttori della regione. La famosa HCCP, il controllo di quelli per... Quello, il piano dei controlli. Sono fondamentali, non sono cartacee, ma sono fondamentali appunto per tutelare i consumatori. Noi quando entriamo nei negozi, comunque nelle rivendite, noi l'HCCP, il piano di autocontrollo, è la prima cosa che chiediamo per verificare come viene posto in essere. Quindi questo nucleo funziona? Abbiamo visto, abbiamo toccato con mano diverse operazioni, diversi interventi che avete fatto. Servirebbero più uomini, per comandante? Questo è un problema... Ma questo è un problema che affrigge un po' l'amministrazione del corpo forestale della regione siciliana. Ogni volta quando si fanno quelle inchieste dove si sommano i forestali, si fanno una gran confusione... Purtroppo devo dire, tra virgolette, che c'è ignoranza in materia. Esatto, sì, sì. Perché tutti dicono che i forestali in Sicilia sono i divini. Sono tantissimi, sono quelli. Noi siamo 370, in divisa fra ufficiali, sotto ufficiali e agenti siamo 370. Quindi non è che siamo neanche tanti per tutti. Per tutte le mansioni che svolgiamo. Peraltro ci avviciniamo a una stagione antincendio che si preannuncia difficile, complicata, anche se avremo delle novità perché dovrebbero arrivare i mezzi nuovi, ma comunque sempre una stagione antincendio e sempre una stagione con tante problematiche. Anche perché l'età vostra, diciamo, media degli agenti e controversari... Ormai siamo tutti grandi e devo dire quasi prossimi, quasi tutti alla pensione. Abbiamo avuto un innesto due anni fa di un cento agenti poi riqualificati all'interno dell'ambito della regione che devo dire che ha dato i suoi frutti perché io per esempio a Palermo ho portato tutti gli agenti che hanno 45 anni, insomma, sono più giovani, molto volenterosi, con grande voglia di fare e diciamo questa esperienza, queste esperienze che iniziano a fare cominciano a dare... Quindi il corpo forestale è utile, dico, diciamolo, quindi non è... Io dico che il corpo forestale è utilissimo per la tutela ambientale, per la tutela dello biodiversità, per la tutela dell'ambiente naturale nella sua accezione più ampia. In più facciamo tutti questi altri servizi, il servizio antincendio, che è una peculiarità nostra... Ora ne parliamo questa... Dico, ma l'abusivismo edilizio nei posti dove... Io ho detto nella tutela ambientale nella sua accezione più ampia. Sì, dico, l'abusivismo edilizio lo dobbiamo dire, cioè è un compito fondamentale perché soprattutto voi andate nei posti dove solitamente non ci va nessuno, dico, o è difficile andarci, no? Siamo mal visti perché ovviamente dove interveniamo, poi procediamo subito al sequestro dell'opera abusiva e quindi, diciamo, con grandi rimostranze dei proprietari, però questo è il nostro lavoro e questo è quello che dobbiamo fare. No, assolutamente, bisogna rispettare le leggi, diciamo, diciamo. Diciamo che le leggi andrebbero rispettate. Quindi soprattutto a tutela appunto del territorio. Anche perché noi tuteliamo interessi diffusi, interessi collettivi, no? Quindi io credo che la, diciamo, la popolazione, la gente, insomma, debba avere, debba vedere con favore l'intervento che facciamo noi sul territorio. Immagino le discariche abusive che trovate nei parchi, nei monti, lei tocca, mette il dito nella piaga, perché per esempio quello che c'è, io parlo del Parco dell'Etna perché è più vicino a dove operiamo noi, anche se, ripeto, noi operiamo in tutta la Sicilia, però ci sono delle zone del Parco dell'Etna che sono veramente diventate un immondizzaio a cielo aperto. E stiamo cominciando, con mezzi tecnici di investigazione, stiamo cominciando a mettere mano per cercare di arginare il fenomeno. Perché arrivano là con i camion e scaricano di tutto. E quindi è chiaro che... Non ci va il tizio con il sacchetto. No, no, ma considera che lei con un camion, un piede di 4-5 metri cubi che scarica, ci mette 3 secondi. Certo. Quindi o noi lo prendiamo sul fatto, quindi significa lasciare due persone fissate, oppure con i mezzi tecnici. Oppure con mezzi tecnici di controllo e di investigazione possiamo ovviare alla carenza di personale. Ormai si fa così in tutto il mondo. La videosorveglianza è la strada per proseguire i controlli sul territorio. C'era anche il bel progetto quello sulla videosorveglianza per quanto riguarda gli incendi, perché ci doveva realizzare tutta una serie di interventi e di cose. Ma stiamo cercando di progettare una serie di inchieste, una serie di cose. E' finita, ma là noi siamo estranei. No, che c'è. Ma ci mancherebbe. Ci sono degli appalti. Peraltro i colleghi che sono stati coinvolti in questa cosa sono stati assolti per non aver commesso il fatto. Sì, sì, sì. Sì, sì, assolutamente. Sì, anche alla Corte dei Conti. Quindi ora ci sarà il problema della Corte dei Conti, ma i colleghi erano estranei. Sembrerebbe, come ha sancito la magistratura, che questi colleghi fossero assolutamente estranei a queste vicende. Sì, sì, sì. Quindi, ripeto, il nostro impegno è assolutamente massimo, veramente certo. Con tutte le difficoltà che abbiamo, per carenza di organico, per scarsa efficienza dei mezzi, che il nuovo assessore regionale, l'assessore Pagano, ha trovato dei soldi per acquistare i nuovi mezzi. Quindi c'è tutto un nuovo corso che si è stato intrapreso. Abbiamo un nuovo direttore regionale che subito si è messo al lavoro per sistemare, per dare delle risposte immediate, soprattutto all'avvio della campagna antincendio, che è imminente. Veniamo da una campagna dura, no? Ci sono stati momenti davvero difficili. Veniamo da una campagna antincendio difficile e le previsioni non fanno ritenere che non sarà migliore. Perché dice questo? Come temperature? E come temperature, perché le temperature sono sempre superiore alla media, lo vediamo anche ora, e perché, per esempio, faccio l'esempio della Pana di Catania, gli invasi sono completamente asciutti e quindi ci saranno grossissimi problemi anche per gli agricoltori. Insomma, sugli incendi poi si innestano cause e con cause infinite, una tira l'altra. Ecco perché poi gli incendi dolosi sono così diffusi sul territorio. Questo è il problema. Possiamo lanciare un appello attraverso appunto questa trasmissione che chiunque veda qualcuno che fa qualcosa che... Guardi, io vengo... Sono arrivato in ritardo a questa riunione perché ero con l'assessore Pagana e il direttore e abbiamo stabilito qual è il nuovo spot da fare per la campagna antincendio e quindi avremo delle, diciamo, delle novità ecco al riguardo. Quindi cercheranno di coinvolgere appunto i cittadini che devono diventare, diciamo, sicuramente protagonisti i migliori controllori del territorio sono i cittadini. A noi ci arrivano tantissime segnalazioni al 15-15 e la segnalazione quando è tempestiva risolve l'intervento nel 90% dei casi perché la tempestività sull'intervento di repressione delle fiamme è fondamentale. Anche quest'anno avrete a disposizione gli elicotteri, i ganaderi... Quest'anno sì perché abbiamo 10 elicotteri. Quest'anno noi abbiamo la flotta regionale che è di 10 elicotteri. e quindi questa diciamo viene organizzata con un appalto della regione. Poi abbiamo la flotta dello Stato che è quella è statale appunto e viene gestita dal centro operativo aereo unificato e è una sala operativa all'interno della protezione civile a Roma. Quindi le competenze sono diverse. Sì, sì, certo. Però potremmo contare su queste cose che sono fondamentali. Su queste possiamo contare sempre su queste cose. Gli elicotteri, 10 elicotteri ce ne abbiamo e la flotta dello Stato è sempre operativa per tutto il territorio dello Stato. Il territorio della Repubblica ovviamente non solo per la Sicilia. Però prima di questa campagna diciamo appunto antincendi e questa campagna che potrebbe creare veramente grandi problemi i cittadini potrebbero fare qualcosa perché anche i sindaci potrebbero fare qualcosa perché ci sarebbero sempre la questione dei terreni incolti le ordinanze guardi le ordinanze ci sono se i proprietari dei terreni dessero corso d'essero seguito alle ordinanze che vengono messi dai sindaci e ognuno ciascuno per le proprie il 50% dei problemi già sarebbero superati e che fosse di più diciamo leviamo il combustibile leviamo il combustibile che ci vuole poi la miccia la fiamma ma il combustibile lo cominciamo a levare e quindi questo ci aiuta molto ci aiuterebbe molto ecco questa è una cosa importante questa è una cosa importante va bene io la ringrazio davvero tanto di essere stato con noi spero di averla ospite qualche altra volta con piacere un po' il punto della situazione anche se cerchiamo di capire appunto quali sono i prossimi interventi seguiremo i prossimi noi li chiamiamo blitz so che non so se vi piacciono molto questi al mercato ma controlli straordinari controlli straordinari sono più consoli giornalisticamente sempre blitz e cose quelle perché diamo non sono un esterofilo controlli straordinari esatto controlli straordinari quindi daremo conto appunto di tutte le varie attività anche sulle pagine di blog Sicilia io davvero ringrazio tantissimo il comandante Luca Ferrito il comandante appunto del nucleo operativo regionale agroalimentare della Sicilia come vedete fanno tantissime cose cerchiamo anche noi di dare una mano appunto al corpo forestale che è in prima linea per cercare di tutelare la cosa più importante oggi se ne parla tanto di ambiente di cambiamenti climatici quanto sia importante soprattutto per il futuro dei nostri figli e loro fanno una parte ora poi vedremo se il presidente della regione Schifani cercherà appunto di aumentare anche la loro presenza nel territorio dotandoli di altre unità e di altri mezzi allora noi proseguiremo sicuramente questa conversazione anche in altre puntate al momento io vi saluto e vi auguro davvero una buona giornata grazie e una buona sera a Grazie a tutti.